La banca di Anghiari e Stia Il direttore Pecorari, la Valtiberina è ancora terra di risparmio Paolo VI, ad Arezzo il congresso straordinario della FUCI in occasione della beatificazione In ascolto delle periferie esistenziali, al via il corso per animatori dei centri d'ascolto Arezzo, 12 tirocinanti a Palazzo Cavallo con il progetto Giovani Sì Il benvenuto nella sala del Consiglio Comunale Il castica al via da venerdì la sezione di poesia contemporanea Casa Petrarca Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD In apertura la visita pastorale che l'arcivescovo Riccardo Fontana sta effettuando in Valtiberina In particolar modo la visita è arrivata nei territori di Anghiari e Monterchi Ieri Fontana ha incontrato i dipendenti della banca di Anghiari e Stia È stata l'occasione per fare il punto sulla situazione economica del territorio valtiberino C'è stato l'intervento del direttore Pecorari che ha detto La valtiberina è ancora terra di risparmio Vediamo La visita pastorale è un'occasione in cui il vescovo incontra tutte le comunità E la vostra è una comunità particolare Siete un crocevia di tante strade che si intersecano E dove arrivano speranze e dolori ma anche vie di uscita Così l'arcivescovo Riccardo Fontana ha salutato i dipendenti del credito cooperativo di Anghiari e Stia In occasione della visita del pastore alla zona anghiarese Un momento di confronto per riflettere sulla situazione dell'economia valtiberina E ribadire la centralità delle piccole banche di antica e solida tradizione Come il credito cooperativo Realtà messi a dura prova dagli standard dell'economia contemporanea La nostra banca è sul territorio dal 1905 per esattezza Come ha avuto modo di dire Sua Eccellenza il vescovo In quei uomini che nel 1905 ebbero l'ardore di fondare questa banca C'era anche il parroco Quindi le origini della banca sono molto chiare Siamo ancora al servizio della nostra comunità Come diciamo noi La banca è di proprietà dei nostri oltre 5.800 soci Il territorio della Valtiberina è da sempre particolarmente sensibile al risparmio Qual è la situazione attualmente? Continua questa sensibilità Una sensibilità che viene da lontano Perché credo personalmente che sia legata al mondo rurale ed agricolo È un mondo che conosciamo bene Gli agricoltori sono sempre state persone molto prudenti Che hanno risparmiato molto Hanno pensato sempre ai figli e alle generazioni future E questo fa sì che ancora la tradizione ci dia ragione La banca è presente anche nel Casentino È un'altra zona dove il risparmio non è mancato E per fortuna non manca perché è la linfa vitale del nostro lavoro Perché le banche di credito cooperativo operando in un territorio ristretto Raccolgono risparmio nel territorio e lo reinvestono nello stesso territorio naturalmente dove operano Un invito alla Regione Toscana per una forte riflessione sul futuro delle pubbliche assistenze Nel servizio sanitario affinché si creino le condizioni per il proseguimento della sua attività al servizio dei cittadini È quello che arriva da Marcello Caremani Assessore alle politiche sociali e sanitarie del comune di Arezzo Misericordia, Croce Bianca e l'intero sistema delle pubbliche assistenze Sono tasselli rinunciabili del mosaico sanitario e sociale Ricorda Caremani in una nota stampa Davvero difficile immaginare un sistema che possa fare a meno di loro Parliamo ora di Paolo VI E' imminente la beatificazione ad Arezzo In questa particolare occasione così importante per la Chiesa Universale Si terrà un evento altrettanto importante L'incontro degli universitari italiani Legati naturalmente alla figura di Papa Montini Che si daranno appuntamento ad Arezzo in Diocesi Vediamo L'annuncio lo aveva dato l'arcivescovo Riccardo Fontana A conclusione dei lavori per il convegno pastorale diocesano alla Verna Arezzo ospiterà un evento di grande prestigio Il congresso straordinario della FUCI La federazione universitaria ai cattolici italiani In occasione della beatificazione di Paolo VI L'appuntamento è in programma da giovedì 16 a domenica 19 ottobre Sarà l'occasione per approfondire la figura di Giovanni Battista Montini Indimenticato assistente della federazione dal 1925 al 1933 E futuro Papa Paolo VI Spiegano gli organizzatori Il congresso sarà dedicato infatti alla riscoperta di quei valori Di ricerca della verità e di carità intellettuale Cui Papa Montini consacrò integralmente il suo ministero sacerdotale e pastorale Essi, spiegano ancora dalla FUCI nazionale Costituiscono ancora oggi lo stile e l'impulso Cui la nostra federazione torna costantemente ad attingere per la sua missione Il congresso verrà aperto giovedì pomeriggio dal cardinale Giovanni Battista Re Venerdì mattina ad approfondire la figura di Paolo VI Saranno il professor Xenio Toscani dalla Cattolica di Milano La professoressa Sacchi Mussini Rettore del Collegio Universitario Santa Caterina di Pavia E il professor Paolo Nepi, docente dell'Università degli Studi Roma III Alle 12 il cardinale Giuseppe Bettori Presidente della Conferenza Episcopale Toscana e Arcivescovo di Firenze Terrà una lezione divina presso la Chiesa della Santissima Annunziata Nel pomeriggio il congresso si sposterà al campus universitario del Pionta Per i laboratori sulla formazione federativa La giornata di venerdì si chiuderà al monastero di Camaldoli Luogo caro alla memoria di Papa Montini per un momento di preghiera Sabato mattina proseguiranno i laboratori Alle 12 l'Arcivescovo Riccardo Fontana presiderà la celebrazione della Messa nella Cattedrale di Arezzo Alle 16 è prevista la partenza per Roma dove il gruppo da Arezzo condividerà con i giovani della Diocesi di Roma un momento di veglia e preghiera nella Cappella dell'Università alla Sapienza in preparazione alla mattina seguente, domenica 19 ottobre quando Papa Francesco presiderà in San Pietro il solenne rito di beatificazione a cui prenderanno parte anche il MEIC, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale ed Azione Cattolica Una giornata di sensibilizzazione sul tema dell'accoglienza dei rifugiati dei richiedenti asilo anche ad Arezzo a promuoverla per venerdì 3 ottobre il Comune di Arezzo capofila del progetto SPRAR il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati gestito da Arci Comitato Regionale Toscano l'occasione è la prima giornata della memoria e dell'accoglienza organizzata dal Comitato 3 ottobre dal Comune di Lampedusa e Linosa a ricordo della strage dei 368 migranti morti nelle acque dell'isola siciliana il 3 ottobre 2013 l'iniziativa di commemorazione organizzata dal Comune di Arezzo si terrà le 18 presso il Monumento di Largo Inigo Campioni nello spazio verde antistante la seda retina dell'ACI qui dopo i saluti delle autorità verranno letti brani dedicati al tema dei rifugiati in ascolto delle periferie esistenziali questo il tema al centro di un percorso formativo proposto dalla Caritas Diocesane rivolto ai futuri operatori dei centri d'ascolto Diocesani, vediamo un percorso formativo articolato nell'ambito biblico, sociale dell'antropologia, della psicologia e della pastorale per aiutare coloro che operano nei centri d'ascolto è quello che prenderà il via il prossimo 11 ottobre fino al mese di maggio e promosso da Caritas Diocesana Istituto Superiore di Scienze Religiose di Arezzo gli incontri si svolgeranno all'Istituto di Piazza di Murello e vedrà alternarsi i docenti dell'Istituto con rappresentanti dell'Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona di Firenze e della Caritas Ambrosiana l'iniziativa nasce dalla consapevolezza che qualsiasi relazione di aiuto non può essere improvvisata ma parte dall'incontro con la persona prima tappa di questo cammino è l'ascolto che non è una semplice qualità personale ma una pratica da imparare, maturare e perfezionare da qui nasce il percorso in ascolto delle periferie esistenziali pensato anche per coordinare l'azione e i metodi delle Caritas parrocchiali che negli ultimi anni sono cresciute in qualità e numero superando le 40 realtà nel territorio della Diocesi di Arezzo Cortone e Sansepolcro i centri di ascolto sono dei presidi sul territorio che si occupano delle varie forme di povertà e di contrasto all'emarginazione sociale in risposta alle tante e complesse forme di bisogno del nostro tempo al corso sono invitati come uditori anche coloro che pur non essendo impegnati attivamente all'interno di un centro d'ascolto sono comunque interessati a un percorso formativo personale ad esempio assistenti sociali, volontari nelle pubbliche assistenze operatori sociosanitari o pastorali, movimenti ecclesiali e laici è stata denunciata anche per ricettazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere parliamo della 38enne di Siena che lo scorso 27 settembre insieme ad altri tre uomini era stata arrestata dai carabinieri di Cortona per la rapina al McDonald di Fogliano della Chiana commessa il 6 maggio 2013 nel corso della perquisizione presso la sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto 10 orologi, un cellulare, un involucro contenente circa 8 grammi di marijuana e un bilancino di precisione inoltre nella vettura della 38enne i carabinieri hanno trovato un coltello con una lama di 10 centimetri Arezzo 12 tirocinanti a Palazzo Cavallo con il progetto Giovani Sì il benvenuto nella sala del Consiglio Comunale il progetto Giovani Sì ha accolto 12 ragazzi che svolgeranno il loro tirocinio all'interno del comune di Arezzo sì, un'esperienza importante per loro ma un'esperienza importante anche per noi perché questo è anche un modo per fornire nuovi stimoli, nuove energie quindi come dire un colloquio, un confronto che servirà sia ai giovani per arricchire il proprio curriculum, sia a noi perché contiamo di avere delle esperienze assolutamente positive, dei contributi, delle idee, dei suggerimenti insomma una progettualità giovane e vivace per fare un esempio dalle politiche giovanili, sport fino ad arrivare all'ambiente smart city, quindi insomma tematiche strategiche anche per il futuro della città Da parte di voi giovani come è vista questa opportunità di svolgere il tirocinio qui nel comune? È un'opportunità comunque molto vantaggiosa dato anche il periodo non molto positivo in cui trascorrono anche le aziende dato che anche io ho fatto economia quindi è un'occasione molto buona per poter imparare, per poter fare esperienza in un ambito come quello pubblico che comunque non è molto facile entrare nel mondo d'oggi e spero che vada bene, da domani partiamo e spero che tutto possa andare nel verso migliore Alla Casa delle Culture di Arezzo sabato 4 ottobre a partire dalle 10.30 appuntamento con una giornata di riflessione e di confronto promossa dal movimento apostolico ciechi al centro della giornata il tema dalle schiavitù del deserto alla libertà della terra promessa il limite, la disabilità nell'esperienza di ogni persona Dopo il saluto di Gian Lorenzo Casini, delegato regionale del MAC per l'area ecclesiale interverranno sul tema Don Sergio Stocchi, assistente ecclesiastico del gruppo MAC di Fiesole i consiglieri nazionali del movimento apostolico ciechi Luigi Vieri, Elzio Andretti e Antonella De Ruvo Parliamo ora di Icastica perché nei prossimi giorni la chermessa retina darà spazio anche alla poesia contemporanea Vediamo Venerdì 3 ottobre avrà inizio il concorso della sezione poesia di Castica che avrà luogo proprio nella casa del Petrarca per confermare quello che è stato il tema di quest'anno di Castica di unire il contemporaneo con l'antico Icastica è riconoscersi nell'arte, riconoscersi in una città e in una civiltà Arezzo apre le case dei propri grandi artisti del passato agli artisti contemporanei gli artisti contemporanei rispondono, hanno risposto 12 poeti chiamati da una giuria d'assoluto prestigio che è costituita dai direttori delle tre più grandi riviste di poesia a livello nazionale La poesia non ha età, quindi questa idea di tenere il concorso di poesia contemporanea in Accademia, in casa del Petrarca è oltre che particolarmente pertinente e anche molto gratificante per l'Accademia A giudicare i poetici sarà una giuria con dei nomi importanti Sono esperti nazionali ed internazionali del settore di poesia e ovviamente per tutta la cittadinanza di Arezzo è un prestigio poter ricevere il loro contributo artistico Sono Daniele Piccini, Franco Buffoni, Nicola Crocetti e Davide Rondoni Ricordiamo che la premiazione ci sarà lunedì 31 ottobre Il 31 ottobre con questo premio intitolato a Mario Luzzi che è appunto un'eccellenza internazionale della poesia nel cui solco vogliamo continuare a muovere le nostre tracce L'autunno si preannuncia caldo per le sentinelle in piedi la rete a confessionale e a partitica che nell'ultimo anno ha portato in piazza migliaia di persone e che per il 5 ottobre ha organizzato una mobilitazione nazionale che interesserà 100 piazze italiane Ad Arezzo, dopo il successo della veglia dello scorso maggio, l'appuntamento è per le 17 in piazza Risorgimento dove il movimento invita tutti ad un'originale forma di protesta in piedi, in silenzio e con un libro in mano in difesa della piena libertà di espressione e del diritto di ogni bambino ad avere una mamma e un papà E ora un nuovo appuntamento con TSD Notizie e Libri la nostra rubrica curata da Elisabetta Giudrinetti Vediamo Simone Fermi Berto propone Il diavolo esiste me l'ha detto Nietzsche Conosciamo già Simone Fermi Berto perché qualche tempo fa ci ha proposto un altro saggio su questo stile Dio esiste me l'ha detto Kant Fu il primo libro, Dio esiste me l'ha detto Kant, un grandissimo successo E allora questo giovane autore con una passione per la scrittura ma con solidi studi filosofici sulle spalle ci propone questo interessante, davvero interessante saggio Il diavolo esiste me l'ha detto Nietzsche E come dire ci suggerisce i vari interrogativi che ciascuno di noi fa Com'è possibile che il male esista, com'è possibile che Dio permetta il male Com'è possibile che questa vita sia così irta di difficoltà Cioè che cos'è il male e così via I grandi interrogativi sul male che hanno accompagnato la storia La storia dell'uomo con la voce dei suoi grandi pensatori Da Socrate fino ai giorni nostri Quindi una panoramica dell'interpretazione che vari filosofi hanno dato alla domanda Se esiste il male che lui curiosamente mette sotto la forma così del Il diavolo esiste e me l'ha detto Nietzsche Ma al di là così dello stile molto molto semplice, molto piano L'autore pone interrogativi forti, filosofici appunto E ci permette di entrare a poco a poco dentro questa non facile materia Ma ripeto sempre con uno stile molto piano, scorrevole, assai divertente Quindi Simone Fermi Berto, il diavolo esiste me l'ha detto Nietzsche Torna anche quest'anno la giornata dedicata alla vendemmia della Vigna della Pace Il vino realizzato dall'Associazione Rondine Cittadella della Pace In collaborazione con il Consorzio Agrario di Siena Giunto quest'anno alla settima edizione Sabato 4 ottobre presso l'azienda agraria San Piero in Barca, Castelnuovo Berardenga Gli studenti, lo staff e gli amici dell'Associazione si ritroveranno con la consueta giornata di vendemmia Quest'anno Vigna della Pace sarà dedicato alla memoria della Prima Guerra Mondiale Rondine si è infatti impegnata nella celebrazione del centenario del conflitto Per promuovere la conoscenza e preservarne la memoria Per il momento è questa la nostra ultima notizia Ricordiamo che l'informazione continua all'interno del nostro sito web www.tsdtv.it Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi